Sappiamo tutti che con lo smartphone è molto facile mettere a fuoco una singola persona o anche mettere a fuoco gruppi di persone. Infatti i nostri telefoni cellulari riconoscono automaticamente i volti e mettono a fuoco tutte quante le persone dentro nella nostra foto indipendentemente da come queste siano distribuite. Ma come si fa a ottenere lo stesso risultato con una macchina fotografica professionale? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi vi parlo di fotografia. Se siete fotografi alle prime armi o possedete comunque una macchina fotografica è probabile che vi sia già capitato di sperimentare la difficoltà nel gestire la profondità di campo ovvero il nostro telefono cellulare fondamentalmente mette quasi sempre tutto a fuoco da solo mentre nel momento in cui utilizziamo una fotocamera di qualsiasi tipo diventa automaticamente più difficile tenere a fuoco più persone o più oggetti. Questo dipende dal fatto che nel momento in cui utilizziamo una fotocamera professionale con un obiettivo vero, quindi con delle lenti sovrapposte e non il lentino del telefono cellulare nel momento in cui utilizziamo una lente vera questa lente tende a essere selettiva nella messa a fuoco questo significa che andrà a mettere a fuoco a una determinata distanza da noi e solo a quella determinata distanza, il che rende difficile tenere a fuoco più persone nel caso in cui queste persone non si trovino sullo stesso piano. Dunque nel momento in cui fotografiamo persone o oggetti che si trovano esattamente alla stessa distanza dal nostro punto di ripresa non dovremo avere particolari problemi ma ecco che nel momento in cui sfasiamo le persone o le cose che dobbiamo fotografare improvvisamente dovremo scegliere dove mettere a fuoco la macchina fotografica ci chiede proprio di decidere nel momento in cui decidiamo di mettere a fuoco un oggetto che è più vicino a noi vedete che quello che sta dietro verrà automaticamente sfocato come fare a tenere entrambi questi piani a fuoco? Ebbene per farlo ci sono più modi diversi e probabilmente il modo migliore di farlo è di combinare questi modi diversi andiamo a vedere quali sono ragion per cui vi consiglio di seguire questo video fino alla fine colgo anche questa occasione per ricordarvi che caso mai non foste già iscritti al canale potete farlo subito cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella non rischiate di perdervi le notifiche benissimo per prima cosa vi rimando a un video che ho già pubblicato in cui parlo di come mai la nostra fotografia può risultare sfocata questa è una cosa importante perché conoscere i meccanismi della messa a fuoco è un grosso aiuto nel momento in cui si va a gestire la profondità di campo ma bando alle ciance andiamo a scoprire come si fa a tenere a fuoco una serie di oggetti o una serie di persone allora innanzitutto dovete sapere per chi già non lo sapesse che la profondità di campo è strettamente correlata al tipo di focale che stiamo utilizzando questo che cosa significa? significa che se stiamo usando un grand'angolo c'è una lente con un angolo di campo ampio che ci permette di abbracciare una grande porzione di quello che si trova davanti a noi la profondità di campo sarà maggiore questo è un aiutino che le proprietà ottiche della macchina ci danno nel senso che ovviamente se dobbiamo fotografare una persona una lente con una focale molto lunga va benissimo se dobbiamo fare un ritratto singolo un 300 mm va bene un 85 mm va bene se stiamo fotografando due persone insieme ecco che un 300 mm potrebbe non essere più la scelta migliore si riesce lo stesso ma si fa un po' più fatica a quel punto è meglio un 85 mm se stiamo fotografando un gruppo di 3 persone a quel punto anche l'85 non è più la scelta migliore è molto meglio un 50 se stiamo fotografando 5 persone sarebbe meglio usare un 35 se stiamo fotografando 10-20 persone a quel punto direi che siamo dal 24 mm in su quindi 24-16 mm perché diventa una scena molto molto ampia quindi la lunghezza focale che stiamo utilizzando ci aiuta ovviamente se fotografiamo un gruppo di 40 persone con un 300 mm innanzitutto dovremo andare a 200 metri il che non è molto pratico e faremo comunque fatica a mantenerli tutti quanti a fuoco mentre se utilizziamo un grand'angolo la lente ci viene in soccorso la seconda cosa da tenere a mente è il diaframma ovviamente se stiamo scattando con un diaframma molto aperto la profondità di campo sarà più risicata questo che cosa significa? vedete il numerino F sulla vostra ottica? se state utilizzando un'ottica da f1.4 e scattate effettivamente a f1.4 la porzione a fuoco della nostra immagine sarà molto sottile e quindi sarà difficile tenere a fuoco più persone più oggetti qualsiasi cosa stiamo fotografando dobbiamo andare a chiudere il diaframma in questo modo la profondità di campo si allarga e siamo in grado di mantenere a fuoco un gruppo consistente di oggetti laddove prima non ci saremmo riusciti ovviamente chiudere il diaframma non è un'operazione priva di conseguenze perché nel momento in cui noi chiudiamo il diaframma entra meno luce e quindi dobbiamo andare a compensare con gli altri parametri se possibile compensiamo con i tempi di scatto se stavamo scattando a f1.4 e scattavamo a un millesimo di secondo possiamo andare tranquillamente a f8 e scattare magari a un centoventicinquesimo e dovremmo più o meno aver compensato ma se eravamo già a un centoventicinquesimo e andiamo a f8 a quel punto dobbiamo per forza agire sui valori degli ISO e quindi purtroppo andiamo a perdere un pochino di gamma dinamica andiamo a introdurre un pochino di rumore nella nostra immagine questo purtroppo è inevitabile ma il nostro obiettivo lì è portarci a casa la foto con le persone a fuoco non ha molto senso fare una foto di un gruppo di persone dove la prima persona davanti è a fuoco e gli altri sono tutti sfocati solamente per consegnare un'immagine priva di rumore a quel punto è molto meglio avere un po' di noise nell'immagine ma avere le persone a fuoco perché se nella fotografia io sono sfocato sono completamente fuori fuoco mi interessa poco che ci sia rumore oppure no se la foto è scattata a ISO 100 ma c'è a fuoco solamente la persona in primo piano e le altre sono tutte fuori fuoco non abbiamo consegnato un buon lavoro dobbiamo anche ricordarci che la distanza a cui realizziamo la foto ha un impatto sulla profondità di campo infatti più vicini ci posizioniamo al nostro soggetto e minore sarà la profondità di campo questo significa che se siamo in difficoltà se stiamo facendo una fotografia in cui il diaframma che abbiamo scelto non riesce a tenere a fuoco il gruppo di persone o cose che dobbiamo mettere a fuoco un trucchetto che possiamo usare è quello di fare un passettino indietro magari uno o due passettini indietro questo dovrebbe consentirci di espandere la nostra profondità di campo e di includere nella nostra porzione di fotografia più persone mantenendole tutte quante a fuoco questo può significare che in post produzione dobbiamo andare a croppare la foto potremo dover andare a fare un piccolo rifilo per centrare meglio quello che abbiamo fotografato ed escludere una porzione di sfondo che magari non ci interessa che magari crea elemento di disturbo però se serve, se è funzionale al fatto di mantenere a fuoco tutto il gruppo di cose o persone che stiamo fotografando è un trucco che vale assolutamente la pena usare piccolo bonus vi ricordo che esistono diverse tipologie di sensori ora a seconda del sensore che stiamo utilizzando avremo un diverso rapporto con l'ottica che andiamo a montare e avremo un diverso angolo di campo e una diversa profondità di campo questo non dipende tanto dal sensore quanto dal rapporto con l'ottica e vi spiego perché nel momento in cui utilizziamo per esempio un'ottica da 50 mm su un sensore full frame quell'ottica sarà effettivamente un 50 mm quindi sarà un'ottica da 50 mm con un angolo di campo equivalente al 50 mm e con la profondità di campo equivalente del 50 mm che cosa succede nel momento in cui montiamo lo stesso 50 mm su un sensore APS-C? il sensore APS-C è più piccolo essendo più piccolo va a prendere in considerazione solamente la porzione centrale del fotogramma scartando quello che c'è sui bordi sensore più piccolo immaginatevi un rettangolo più piccolo all'interno di questo fotogramma immaginatevi che quello che sta fuori non venga calcolato dal sensore più piccolo a questo punto che cosa succede? succede che essendo una porzione più piccola del fotogramma a venire presa in considerazione per comporre la stessa scena dobbiamo stare a una distanza maggiore giusto? immaginatevi se la mia ripresa venisse fatta solamente all'interno di questo rettangolo io dovrei allontanarmi per fare la stessa ripresa che sto facendo adesso se io mi allontano che cosa succede? succede che la profondità di campo aumenta la profondità di campo aumenta perché aumenta la distanza tra il punto di messa a fuoco e la fotocamera questo che cosa ci dice? che nel momento in cui siamo in difficoltà a mettere a fuoco un gruppo di oggetti o persone la fotocamera full frame non è la scelta migliore perché la fotocamera full frame tende ad avere una profondità di campo inferiore quindi tende ad avere uno sfocato più bello tende ad avere una maggiore separazione del soggetto dallo sfondo ma nel momento in cui dobbiamo mettere a fuoco un gruppo di oggetti o persone ci mette maggiormente in difficoltà perché dobbiamo chiudere maggiormente il diaframma a causa della minore distanza che ci consente di tenere dal nostro soggetto ovviamente questo vale anche e ha maggior ragione per il micro 4 terzi se qualcuno di noi ha avuto esperienza con delle compatte si sarà reso conto che con le compatte è il contrario con le macchinette compatte è più difficile sfocare lo sfondo e questo perché il sensore è ancora più piccolo e arriviamo ai telefoni cellulari dove sfocare lo sfondo è pressoché impossibile sì ci si riesce ma solamente a condizioni di andare molto vicino al soggetto se io faccio una fotografia a questo microfono da questa distanza riesco a sfocare il mio studio dietro ma se io mi faccio un selfie lo sfondo dietro è perfettamente a fuoco e questo perché sensore da 35 mm quello classico delle full frame ha una certa dimensione APS-C è più piccolo micro 4 terzi è più piccolo cellulare è ancora più piccolo e minuscolo quello del cellulare più piccolo è il sensore maggiore è la profondità di campo quindi va da sé che se dobbiamo fare gruppi di persone è più facile farle col cellulare però poi non abbiamo la stessa qualità della macchina fotografica nel momento in cui vogliamo la stessa qualità della macchina fotografica dobbiamo ricorrere a uno o a tutti gli spedienti che vi ho narrato in questo video ora vado a farvi vedere un esempio tratto da uno degli ultimi shooting che ho realizzato di cui vi parlerò in un prossimo video si tratta di un set fotografico automotive una cosa che purtroppo non mi capita molto spesso ma che è molto divertente anche perché a me le macchine non dispiacciono come potete vedere in quest'immagine il giochino era molto semplice avevamo una sorta di flotta di automobili che ve lo dico senza problemi andavano a noleggio quindi non erano in vendita noi non dovevamo realizzare un catalogo perché le foto catalogo di queste auto esistono già uno va sul sito del produttore e le trova già le foto quelle precise perfette fatte in studio i render precisi perfetti fatte in studio di queste macchine ci sono già quello che il cliente voleva era un'immagine reale delle sue macchine quindi un'immagine ambientata ora vista l'ubicazione del suo garage noi ci siamo recati nel posteggio dello stadio di San Siro che per l'occasione ci hanno lasciato entrare devo dire molto gentilmente ci hanno lasciato entrare prima che ci fossero degli eventi ci hanno anche detto fatte in fretta che poi arrivano quelli dell'ipodromo quindi abbiamo fatto in fretta abbiamo scattato questa immagine come potete vedere per come l'ho scattata vado a farvi vedere i dati di scatto perché come sapete non ho segreti per come l'ho scattata sono stato molto avvantaggiato perché c'era il sole era una giornata luminosa quindi c'era tanta luce quindi non ho certo avuto problemi a chiudere il diaframma ho chiuso il diaframma senza nessunissimo problema ho scattato con una focale media comunque stavo utilizzando il 24-70mm f2.8 prima versione di Canon su una Canon EOS 6D se ricordo bene come potete vedere la macchina si è comportata molto bene mi ha garantito un buon recupero delle alte luci un buon recupero delle ombre cosa che so era assolutamente calcolato che una macchina come questa per quanto non sia la migliore in mio possesso andasse benissimo per un lavoro di questo tipo abbiamo scattato con la sola luce naturale come potete immaginare perché le foto delle macchine o le fai in studio con i flash o le fai comunque al buio al chiuso con i flash ma farle all'aperto andando a competere con la luce del sole a picco non è assolutamente un'opzione quindi se si scatta all'aperto si utilizza la luce del sole punto e basta come potete vedere in questa immagine sono riuscito senza fare grossi calcoli l'ho fatto semplicemente a naso a istinto perché ormai ho la misura sono riuscito a mantenere perfettamente a fuoco tutta la prima vettura vedete che è a fuoco il frontale della vettura sono a fuoco i fanali frontali ma è a fuoco anche il retro della vettura e vedete che se andiamo sulla macchina che sta immediatamente dietro è a fuoco anche lei non è che è sfocata perché è più indietro se andiamo sulla terza macchina vedete che non è più perfettamente a fuoco quindi qui ho dovuto fare un compromesso tra staccarle un pochino dallo sfondo e averle tutte perfettamente a fuoco la terza vettura non è perfettissimamente a fuoco però il compromesso è che se volevo perfettamente a fuoco anche quella macchina succedevano tre cose la prima è che dovevo cambiare focale e quindi dovevo tornare più verso il grandangolo e quindi includere nel mio fotogramma una porzione di sfondo maggiore e magari non lo volevo perché lo sfondo era molto disordinato la seconda cosa è che dovevo chiudere ulteriormente il diaframma ma essendo già a non mi ricordo più f8, f13 una roba del genere avendo già chiuso non volevo incappare nel fenomeno della diffrazione che mi avrebbe dato una grande morbidezza su tutto il fotogramma io invece volevo nitidezza nel fotogramma quindi ho evitato di chiudere il diaframma più di così questo mi sembra un buon compromesso perché le prime due macchine sono perfettamente a fuoco l'ultima dietro non è perfettamente a fuoco ma la percezione è comunque buona perché comunque l'osservatore si ferma sulle prime due auto difficilmente va a ingrandire sulla terza in quest'altro esempio che vi faccio vedere qui invece eravamo al castello di Peschiera Borromeo qui come potete vedere è stato molto più semplice intanto perché le auto erano solamente due quindi mettendo a fuoco nella stessa identica maniera avrei tenuto a fuoco le prime due macchine sulla terza non ci sarebbe stato nessun problema come potete vedere però c'è una struttura alle spalle che è appunto la torre del castello di Peschiera Borromeo per fare questa inquadratura io mi sono allontanato non ho più riempito l'intero fotogramma con le mie automobili ma ho riempito il fotogramma anche con la scena che si trovava immediatamente dietro il risultato è che tutta la scena è perfettamente a fuoco le auto e anche la struttura dietro questo perché ho aumentato la distanza aumentando la distanza riesco a tenere tutto quanto perfettamente a fuoco laddove avvicinandomi non ci sarei invece riuscito e tenete conto che stavo scattando con un sensore full frame se avessi scattato con un sensore di dimensioni maggiori faccio l'esempio per assurdo se avessi scattato con una Hasselblad avrei avuto più difficoltà a mantenere tutto quanto a fuoco nel fotogramma perché l'Hasselblad ha un sensore ancora più grande viceversa se avessi scattato con una fotocamera micro 4 terzi avrei fatto meno fatica a mantenere tutto quanto a fuoco proprio per le proprietà intrinseche del mezzo fotografico se stavo scattando con un telefono cellulare non dovevo preoccuparmi di niente facevo pum 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 ed era tutto perfettamente a fuoco sia in primo piano che sullo sfondo perché i diversi sensori si relazionano in questo modo alle ottiche che vengono montate su di essi dunque ma esistono dei parametri magici per essere sicuri di essere sempre a fuoco su tutti i soggetti che stiamo fotografando allora in realtà no non esistono dei parametri magici perché io potrei anche dirvi di scattare a f8 però dipende anche dalla distanza e dalla focale che state utilizzando probabilmente se state fotografando 3, 4, 5 persone e scattate a f8 e state almeno a un paio di metri dovreste essere in bolla più o meno però perché se le persone sono più o meno allineate la questione funziona se una persona sta in questa posizione e un'altra persona sta due metri più indietro ecco che la cosa va rinegoziata perché se abbiamo molta disparità di distanza tra una cosa e l'altra che stiamo fotografando ecco che i parametri che io vi posso dare non vanno più bene quello che vi posso dire è di fare degli esperimenti cercate di capirlo dal monitor, dal display se avete fatto correttamente se avete sbagliato di poco magari può passare inosservato ma se avete sbagliato di tanto ve ne accorgete e comunque fate degli esperimenti perché questo è un muscolo che si allena quindi avete bisogno della memoria muscolare su questa cosa ovviamente se vi chiedono di fotografare un gruppo di 7 persone e non l'avete mai fatto prima fate un esperimento prendete 7 bottiglie mettetele per terra e provate a fotografare quelle 7 bottiglie con un certo diaframma da una certa distanza cercando di simulare quella che avrete davvero nel servizio fotografico e così capite come fare a tenere a fuoco le vostre 7 bottiglie che posizionate opportunamente e poi avete quantomeno un'idea di come posizionare le persone è importante provarci è inutile che io vi dica dei parametri perché se io vi dico un parametro su full frame e poi voi lo utilizzate su un Hasselblad o su un cellulare è sballato completamente quindi dipende dall'ottica dipende dal sensore dipende dalla distanza e dipende anche da quanto sono grandi le cose che fotografiamo sicuramente io fotografo delle auto magari per fotografare un'automobile sto più indietro rispetto che se stessi facendo un ritratto e quindi sono avvantaggiato se stavo facendo un ritratto ero automaticamente più vicino perché una persona è più piccola quindi per riempire il fotogramma mi avvicino di più ed ecco che sono svantaggiato è difficile stabilire un parametro anzi è impossibile stabilire un parametro univoco che vada bene sempre cercate di gestire le cose o le persone che state fotografando in maniera da farle stare nel minore spazio possibile per esempio io fotografando queste automobili ho spostato le auto in maniera tale da tenerle più vicine possibile non ho messo un'auto vicina e un'altra lontanissima le ho tenute più attaccate possibile in maniera tale da tenerle tutte quante a fuoco perché già prevedevo questa cosa molto bene amici a questo punto vi lascio spazio nei commenti se avete ulteriori domande richieste o qualsiasi altra cosa fatemi sapere se avete mai avuto questo tipo di problema ed eventualmente come l'avete risolto vi ricordo che in ultima analisi se siete veramente in difficoltà esiste anche la tecnica del focus stacking che io sconsiglio per fare ritratto in una situazione del genere perché una persona si muove il focus stacking non funziona ma se vi interessasse vi lascio in cardo un video che ho già realizzato proprio su questo argomento dove vi faccio vedere come si fa a fare più scatti per mettere a fuoco una scena altrimenti molto complessa da rendere a questo punto vi ricordo soprattutto se siete arrivati fin qui e non siete ancora iscritti che potete farlo subito cliccando il bottone qui sotto attivate anche la campanella così non vi perdete i prossimi aggiornamenti è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.